Io quando ero a Madrid lui facevano giocare sulla destra come terzino destro, poi Capello lo riportò al centro e lui inizialmente faceva un po' fatica, era bravo si vedeva ma non aveva ancora il concetto del centrale. Alla fine è diventato, è andato oltre ogni aspettativa perché oltre ad essere un bravissimo difensore fa anche tanti gol e questo non guasta. È diventato un giocatore, un perno principale della nazionale spagnola come del Real Madrid, è un giocatore che ha tanta passione, è un giocatore che è cresciuto tanto, a me piace tanto, tecnicamente e tatticamente è un giocatore straordinario, ha la possibilità di vincere un alto mondiale perché la Spagna è forte e io sicuramente faccio il trifo per lui ma come amico. Grazie a tutti!